Buongiorno a tutti, oggi volevo parlare di un problema che ultimamente sta girando molto sui social specialmente sui social dedicati al settore dell'autotrasporto e degli autisti in particolare quello della surrettizia obbligatorietà da parte dell'autista di effettuare operazioni di carico o di scarico manuale dei mezzi allora io affermo sicuramente con assoluta certezza che questo obbligo non esiste da nessuna parte in nessun modo esiste questo obbligo da parte dell'autista innanzitutto dobbiamo differenziare gli accordi aziendali tra committente e trasportatore che riguardano solo queste due parti in causa, committente e trasportatore riguardo alla messa a disposizione delle merci quindi alle modalità con cui il trasportatore si accorda con il committente per la movimentazione di queste merci l'articolo 2 del decreto legislativo 286 del 2005 indica chiaramente che il caricatore è il soggetto che mette a disposizione la merce sull'automezzo del trasportatore e ne cura il carico, lo scarico e la movimentazione questo è palese e è scritto all'articolo 2 di questo decreto legge di contropasso l'articolo 1687 del codice civile non prescrive particolari modalità sia in positive o a discrezione per quanto riguarda la movimentazione delle merci quindi il fatto che l'autista in alcuni casi sia costretto, obbligato o in qualche modo tenuto senza accordi di secondo livello a movimentare le merci questo è un fatto abbastanza grave e comunque sottolinea il fatto che non ci sia una reale ed efficace comunicazione tra l'azienda e il dipendente, quindi tra l'azienda di trasporto e l'autista questi sono accordi aziendali che vanno sottoscritti in ogni caso perché se altrettanto è vero che può essere prevista la mansione di carico, scarico o di facchinaggio da parte dell'autista questa mansione deve essere prevista all'interno del contratto, deve essere sottoscritta, deve essere ben spiegata e in qualsiasi caso ai sensi del decreto legislativo 81-2008 il famoso testo unico per la sicurezza sul lavoro i lavoratori devono essere formati, informati e specialmente le aziende terze verso le quali si recano i trasportatori devono fornire immediatamente idonea documentazione di sicurezza a tutti i soggetti che si recano presso le loro sedi questo è quanto buongiorno a tutti vi saluto, vi auguro buon lavoro e per qualsiasi altro chiarimento non esitate a chiedere ad Agora 2.0 movimentazione per il trasporto grazie